Dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 20, ogni giorno con un argomento diverso da trattare e quindi con delle conferenze tematiche che inizieranno alle ore 11 e parleranno alla fin fine di quello che è presente all'interno della mostra. Perché? Perché io amo molto divulgare quello che è la mia conoscenza, così con scarsa umiltà, ossia tutto ciò che compete gli ori tradizionali e la gioelleria dell'area alto adriatica, quindi Trieste, la Dalmazia, l'Istria, parte del Tolmezzino, del Carnico che sono i nostri vicini di cui abbiamo avuto quindi parecchie infiltrazioni culturali, in epoca austro-ungarica, quindi dall'ultima parte del Settecento fino alla Prima Guerra Mondiale.